Spadarino, che ha ripreso di gran carriera le sue trasmissioni, si scatena sul tabaccaio di Ivrea. E chiudo con la solidarietà al tabaccaio di Ivrea, ha ammazzato un sacchetto a perdere, scusatemi per la realità, ma... Grande tabaccaio di Ivrea, ne erano tre i sacchetti a perdere, uno in meno, uno in meno, che non serve alla collettività. Sta gente, ve lo giuro su Dio, non serve alla società. In questo caso, tanto per non cambiare, la vittima è Moldava, e hanno trovato terreno fermo, non solo gli islamici, africani, quelli dell'est. Tutti qui vengono ad arricchirsi, però ogni tanto c'è la bella novella, qualcuno cade, e io sono contento. Chi ha detto? A sti tre moldavi, erano i tre, due sono riusciti a scappare. Peccato che il tabaccaio non ha colpito gli altri due, che così avrebbe fatto un favore alla società. Altri due sacchetti a perdere in meno. Spadarino vorrebbe morti anche gli altri due ladri, caro David. Mamma. Allora, penso che Daniela Martani... Grazie. 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 Grazie.